Con la nuova fase 2 dell'emergenza Covid-19 nasce il progetto Salutiamoci Bene, ideato dal docente in negoziazione alla LUIS, Angelo Monoriti. Si tratta di un cortometraggio e videotutorial al quale hanno preso parte alcuni studenti della LUIS Guido Carli ed altri siateni italiani, tra cui anche il conservatorio di musica Canepa di Sassari, che ha contribuito con lo studente Francesco Corrias alla realizzazione della colonna sonora. Al progetto ha partecipato anche la psicopedagogista e psicoterapeuta Marerita Parsi, presidente della fondazione Movimento Bambino Onlus. L'idea di Monoriti scaturisce dalle nuove regole post-quarantena, che ogni persona dovrà adottare fino a fine emergenza, ovvero un distanziamento fisico ma non sociale. Per questo l'idea del video Io sono Porcospino, che prende spunto dalla parabola del Dilemma del Porcospino, elaborata da Schopenhauer. L'obiettivo, rendendo protagonista un porcospino, è quello di far abituare le persone a far sentire la loro presenza solo tramite un semplice gesto, quello della mano destra sollevata, salutandoci, perché la mano rappresenterà i nuovi occhi, un nuovo modo di far sentire il calore e la presenza all'altra persona, senza avere così contatti ravvicinati, senza però perdere quell'umanità che da sempre ci contraddistingue nel nostro essere umani.